La prima riflessione che voglio fare è ogni esperienza, ogni relazione, è una porta di accesso verso un nuovo stato di consapevolezza. Attraverso ogni relazione io ho l'opportunità di evolvere, di entrare più in comunicazione con me stesso e di capire che il mio mondo interiore viene riflesso, viene trasmesso all'esterno, viene proiettato. Avete presente il buon vecchio proiettore da diapositive? Tutti noi che cosa facciamo tutti i giorni? Cerchiamo di cambiare l'immagine che sta sul muro, cerchiamo di cambiare gli altri, cerchiamo di cambiare la situazione esterna a noi. Quello che non facciamo cos'è? Di cambiare la diapositiva e sapete dov'è? dentro di voi. È l'unica possibilità che avete di cambiare quell'immagine che vedete proiettata sulla parete. Eppure tutti i giorni io vedo tutte le persone che lottano contro una parete e sapete cosa rappresenta quella parete? Un'illusione. Lottano contro le loro illusioni, contro i loro fantasmi, contro tutto ciò che è esterno a loro. Perché non cambiare prospettiva? Perché non entrare in quella modalità dove in ogni momento il percorso della vita, l'esperienza, la relazione ci mette in un contatto più profondo con noi stessi? Non è sempre facile, però è la strada che ci può accompagnare a una vibrazione di felicità, a una sensazione di unità con tutto ciò che ci circonda. E lì c'è l'unica opportunità che diamo a noi stessi di esprimere, ho sentito parlare di talento, ho sentito parlare di scopo di vita, di esprimere noi stessi attraverso il nostro talento. Perché più noi ci riconosciamo, più possiamo esprimere anche attraverso gli altri, nel contatto con gli altri, quello che è il nostro dono e il nostro talento. Ho sentito a più riprese parlare di spirito durante gli interventi precedenti, parlare di anima. È un contesto che molto spesso va un po' al di là della nostra quotidianità. Ci troviamo spesso all'interno di meccanismi consolidati nelle nostre abitudini, nella nostra routine, in un vortice spesso che non ci dà l'opportunità di capire dove siamo, perché siamo lì, cosa sta succedendo. In questa modalità perdiamo proprio il significato della nostra esperienza, della nostra vita. Allo stato attuale possiamo dire che la condizione umana, come la stiamo vivendo, può essere suddivisa in cinque categorie. Nella prima categoria possiamo dire che ci sono problemi di salute. Quanti problemi di salute ci sono attorno a noi? Tantissimi. Una seconda categoria dove incontriamo problemi di autostima o come chiamo io di autovalore. La gente, le persone non si sanno valorizzare, non si sanno amare, non si vogliono riconoscere per quello che sono. Poi una terza categoria è una categoria legata all'abbondanza. Siamo circondati di problemi materiali. Scarsità, poca ricchezza, poco movimento di denaro. Quindi tutta una serie di cose che effettivamente vanno a disperdere la nostra abbondanza. Poi c'è una quarta categoria, i problemi delle relazioni. Guardiamo attorno quanti problemi relazionali a qualsiasi livello ci sono. Vi chiedo, in queste problematiche cos'è che noi facciamo tutti i giorni? In queste quattro categorie noi siamo sempre nel tentativo di voler cambiare qualcosa. Sì o no? Cerchiamo di ripristinare un livello di equilibrio. Che si tratti di una malattia, che si tratti di una scarsità dal punto di vista economico, che si tratti di conflitti interiori che non ci danno l'opportunità di cogliere il nostro valore, il nostro significato, cerchiamo di cambiare. Però vi ho detto che ci sono cinque categorie. La quinta è completamente diversa. Ecco perché attraverso la quinta categoria noi possiamo fare un salto evolutivo. E ritorno nel concetto di prima, cambiare paradigma. in queste quattro categorie stiamo cercando di cambiare qualcosa. Stiamo cercando di ripristinare uno stato di equilibrio. Nella quinta, e andiamo a vedere qual è, c'è la categoria della gioia. E che cosa fate nella categoria della gioia? State semplicemente cercando di esprimere voi stessi. Lì non c'è lotta, non c'è il tentativo di un cambiamento. Non state cercando di ripristinare qualcosa che è stato alterato per mille motivi e che spesso non ne siete neanche consapevoli da dove arriva la causa di quel cambiamento. Perché ve ne siete dimenticati. Legge di causa ed effetto. Semino lontanamente nel mio passato, però quell'onda io non mi ricordo quando si è alzata in alto mare, probabilmente cinque anni fa, dieci anni fa, cinquant'anni fa o forse qualche vita fa. Quell'onda si è alzata a un certo momento perché ho agito, ho dato forma a un'azione, ho pensato in un certo modo, pensiero, parola e azione che danno forma a un'espansione della mia energia. Co-creatori. Tutti voi siete co-creatori della vostra realtà. ecco che quell'onda quando arriva sulla vostra spiaggia e voi siete lì tranquilli, rilassati, se avete seminato bene quell'onda è dolce, è gentile, vi fa star bene, vi coccola, vi sostiene. Ma se quell'onda a suo tempo era spinta da emozioni di odio, di rabbia, di rancore, quell'onda vi scompagina la vita, creando tensioni, resistenze, problematiche, tutta una serie di cose che comunque vanno a cambiare il vostro equilibrio. Ecco che dobbiamo veramente fare tesoro di questo concetto nelle nostre relazioni, nella nostra vita e in tutto quello che noi siamo. Perché l'amore più grande che possiamo sperimentare è quello verso noi stessi. In che modo? Semplicemente permettendo a noi stessi, dato che siamo uno spirito che si è incarnato con uno scopo, di esprimere quello spirito, di esprimere la nostra natura, di esprimere tutto quello che noi siamo. Però, c'è sempre un però, che cosa fa la mente? Il nostro ego crea tutta una serie di maschere, di alterazioni della nostra identità, a tutela, a una semplice tutela, per una paura di soffrire o di tornare a soffrire. Pensate, e io spesso porto questa riflessione, che quando siamo bambini, la prima cosa che impariamo qual è? Che quando noi stiamo male in famiglia diventiamo dei dittatori, tutti al nostro comando. E di conseguenza, in un modo o nell'altro, impariamo ed apprendiamo che cosa? Che quando stiamo male, quando siamo infelici, abbiamo l'attenzione degli altri. E sapete quanto è importante avere l'attenzione degli altri? È viscerale per la natura umana. È viscerale avere chi ci ama. E il nostro significato d'amore è stato trasformato in che modalità? Non amare, non imparare ad amare, ma semplicemente cosa dobbiamo fare per essere amati. E adottiamo tutta una serie di meccanismi, consci e inconsci, che devono richiamare l'attenzione degli altri per avere amore. Ecco che imparare ad esprimere, ad esternare, a condividere quello che siamo nella gioia è un grande cambiamento di quello che noi possiamo portare come felicità e amore nella nostra vita. Ve l'ho appena detto, in questo stato state soltanto cercando di capire come esprimervi con essa. Questa è la funzione di questa categoria, che non ha nulla a che vedere con le altre categorie. Là c'è lotta e c'è naturalmente quell'approccio di controllo e di cambiamento, quello che in questa non c'è. Il nostro compito non è di ricercare l'amore. Di suo, se ci riconosciamo per quello che siamo veramente, siamo già amore. Siamo estensione di un'energia universale, di una intelligenza cosmica che ha come vibrazione l'amore e l'abbondanza. Il raggio di sole porta per estensione le caratteristiche di chi lo ha generato e quindi prende la vibrazione del sole, della sorgente. Noi semplicemente, proprio perché abbiamo costruito una personalità, dobbiamo rimuovere tutte quelle cose, tutti quei condizionamenti, tutte quelle convinzioni, tutte quelle regole che ci impediscono di riconoscere quello che siamo. Quindi, se dobbiamo veramente confrontarci con noi stessi, il percorso di consapevolezza che ci è dato fare e compiere è quello di rimuovere tutte le barriere che dentro di noi abbiamo costruito contro l'amore. L'ho scritto anche nel mio nuovo libro. Non era una mia prerogativa dirvi cos'è l'amore, perché l'amore perfetto lo vivete tutti voi, al vostro livello di consapevolezza. Non esiste un amore perfetto, perché ogni persona è nel diritto di vivere quell'amore in base alla propria consapevolezza e alla propria esperienza. Però possiamo comunque individuare quegli elementi tossici che in un qualche modo vanno a creare una corazza, una barriera affinché quello che è naturale che è dentro di noi possa fuoriuscire. Sapete come si dice in cinese natura? Si dice ziran e vuol dire ciò che accade spontaneamente. Noi facciamo parte della natura. Ognuno di noi è un seme perfetto. ognuno di noi è qua per esprimere al meglio il suo potenziale, il suo innato, la sua pura essenza. Invece, come spesso succede, la maggior parte delle persone che cosa fa? Sapete, io sono una bellissima margherita, ma vorrei tanto diventare un bellissimo tulipano. Perché? Perché quel tulipano mi piace tanto. E quando diventerai un tulipano che cosa vorrei diventare? Ha una bellissima rosa. Non permettiamo a noi stessi di esternare, di manifestare, di esprimere, di condividere quello che la nostra natura contiene in tutte le sue sfumature. Abbiamo paura del nostro lato oscuro. Una parte fondamentale di noi che va amato, va accolto. C'è un conflitto interiore costante perché non ci accettiamo, non ci amiamo. Eppure quando arriviamo all'aeroporto internazionale della vita abbiamo tutti e quanti le nostre due belle valigie, una bianca e una nera. In quella bianca abbiamo le nostre qualità. Eccole, dite al mondo, questo sono io, mi vedete? Mi amate? Mi accettate? Vedete quanto sono bello? Però la vita vi ha dato anche il suo opposto e la coesistenza degli opposti nell'universo è una cosa naturale. avete la valigia nera. Nessuno che la vuole. Tutti che cercano di dimenticarla da qualche parte, però vi guardano e vi dicono no, non fa parte del gioco. Vuoi entrare nell'esperienza? Vuoi andare a fare esperienza nella terra? Bene, sai che ne hai una e l'altra. E vi dirò una cosa. Se volete dare significato ai vostri talenti, dovete passare per il vostro lato oscuro. Perché dietro a quello che non vi piace si nasconde il vostro potenziale. Quello che non accettate di voi vi dà l'opportunità di riconoscere tutto quello che siete e di esprimere al meglio il vostro talento. Ci portiamo addosso costantemente un riflesso di che cosa? Del nostro passato. Il nostro passato condiziona in qualsiasi momento qualsiasi nostra scelta. Però vi voglio far riflettere su una cosa. Cos'è il nostro passato? Il passato non è una serie di eventi che si evolvono secondo una linea temporale. Certo che voi mi direte, io mi ricordo quando mi sono sposato. Ho lavorato in quell'azienda dal 1982 al 1998. Perché andate ad attingere a quelle informazioni. Però andiamo più in profondità. Cos'è il vostro passato? La mente va sempre a paragonare quello che è successo con quello che state vivendo. Andate a fare un paragone. A mettere in discussione quello che è questo momento con quello che già è successo precedentemente. E se le cose non combaciano, non collidono, comunque voi siete in grado, ad un livello percettivo, di fare una scelta. Per una persona è difficile farlo perché il suo passato la definisce o almeno così crede. È una nostra credenza, è una convinzione. Che quel passato comunque ci dia una personalità, ci identifichi. Quando la coscienza è repressa, quando di base la coscienza è ignorata, oscurata dallo sporco, dalle vecchie credenze, dai vecchi residui, allora la vita diventa molto complicata. Perché andiamo a bloccare quello che è la nostra naturalezza, la nostra essenza. Il passato non ha nulla a che vedere con un fatto specifico. Ho portato due immagini. Questo è un funerale. cosa vedete? Delle rose. Sapete che la rosa è sempre la rosa? Sì. Però in un'altra situazione quella rosa ha tutto un altro significato. Cosa cambia dentro di voi? La vostra percezione della realtà che è legata alle vostre emozioni, a quello che vivete in quel momento. I vostri pensieri vanno naturalmente ad alimentare il vostro corpo emozionale, il vostro corpo fisico, creando delle ancore di realtà. Ecco che il vostro passato è un libro della legge inviolabile che contiene le vostre convinzioni e le vostre credenze, è un giudice severo che costantemente vi dice questo no o questo sì. In funzione dell'esperienza che avete vissuto, ma quell'esperienza e ce lo insegna la fisica quantistica, che viene anche definita la scienza o la fisica delle possibilità. Possibilità per che cosa? Possibilità di scelta per la vostra coscienza. Siete voi in ogni momento come osservatori consapevoli e inconsapevoli che determinate come vivere quella determinata situazione. Ecco che questo bagaglio che avete accumulato vi definisce, ma voi non siete quello, ecco perché dobbiamo ripulire la nostra percezione del passato, anche nelle nostre relazioni, perché rischiamo di avere una persona nuova davanti a noi e perché c'è il confronto, c'è il paragone con il nostro passato di fare delle scelte, di avere dei comportamenti nei confronti di quella persona completamente errati. Il vero passato è la saggezza che ne avete ricavato o che in molti casi non ne avete ricavato. Confrontatevi con questa definizione. Il vostro passato deve essere vissuto in una modalità diversa. Siete qua per fare esperienza. Il tempo è un'illusione. Vi viene dato perché in un modo sempre nuovo noi dobbiamo cogliere in un modo sempre più viscerale il vero significato che si nasconde dietro tutto. E non possiamo entrare nell'esperienza attraverso le nostre paure. Dobbiamo entrare nell'esperienza in una vibrazione d'amore e l'amore accoglie. Non respinge, non si allontana, non scappa. Ecco le due modalità comportamentali che spesso abbiamo, soprattutto nelle nostre relazioni. Azione o reazione? Quando reagiamo è perché quella ferita che è dentro di noi ci fa male. Hai! Mi hai toccato! È colpa tua! No! Tu mi hai toccato in un punto debole. Sono io che non trovo il coraggio di rimuovere il cerotto, di rimuovere la camicia e osservare quella ferita che non ho voluto osservare perché ha creato in me sofferenza, ma che comunque è funzionale alla mia crescita. Quindi devo ringraziare quella persona con umiltà nell'accoglienza e dire grazie perché il tuo specchio mi dà l'opportunità di vedere quello che prima non riuscivo a vedere. Capite che più le persone creano resistenza ed ostacolo attorno a noi più dobbiamo ringraziarle? Perché quando noi reagiamo, reagiamo perché una parte di noi è in disarmonia, non ha trovato il suo centro, il suo equilibrio. Più noi cresciamo nella consapevolezza, nell'esperienza, nell'accoglienza, nella compassione, nell'umiltà, nella semplicità, nell'amore, più iniziamo ad agire. Agire consapevolmente perché riconosciamo e impariamo ad amarci veramente. iniziamo a definire il nostro spazio sacro. Fino a ieri, accesso a tutti. Prego, sono lo zerbino che in tanti momenti si fa anche calpestare. Perché? Perché non mi so dare valore, non mi so amare. Ed è il primo percorso della vita. Quasi tutti noi ci passiamo di non volerci bene, di accettare qualsiasi cosa perché, torniamo al riflesso di prima, abbiamo bisogno di sentirci amati. L'amore arriva da qualcosa di esterno. Mano a mano che noi invece iniziamo a cogliere quell'amore dentro di noi, allora non siamo più disposti a mettere il nostro scrigno, la nostra felicità, il nostro equilibrio nelle mani degli altri. Ecco che se iniziate a rispettarvi, le persone iniziano a rispettarvi. Ma cosa è successo? Prima lottavo e volevo che gli altri cambiassero perché presumevo che loro erano nella modalità sbagliata. Adesso ho deciso di cambiare io e pian pianino le persone cambiano. E se non cambiano cosa succede? Se ne vanno. Non sono più in risonanza con voi. L'energia, lo abbiamo sentito prima, dato che noi è consolidato, ormai è stabilito, siamo energia, siamo campi elettromagnetici. Ogni organo del nostro corpo emette il suo campo elettromagnetico. quello più grande qual è? Quello del cuore. C'è comunicazione. Io sto comunicando con tutti voi. Sono un ricevitore e un trasmettitore. Così come ognuno di voi. Le nostre energie stanno dialogando. e vi assicuro che quando usciremo da qua questa sera, nessuno uscirà come quando è arrivato. Se in una stanza buia portate una candela, che cosa succede? Trasformate l'oscurità in luce. Se una persona ha una vibrazione più elevata rispetto alle altre persone, ed è nelle vicinanze, per risonanza che cosa succede? Che anche quella persona, per riflesso, riceve la vibrazione del donatore e espande il suo livello vibratorio. Capite perché siamo tutti interconnessi in questo grande entaglement che è fondamentale e va riconosciuto? Io l'ho tradotto nel mio primo libro in una frase molto semplice, perché a me piace essere semplice. Siamo tutti sotto lo stesso cielo. In un modo o nell'altro dobbiamo esserne consapevoli. E quando cambio io, che ne siamo consapevoli o no, cambia tutta la realtà attorno a noi. Cambia la mia percezione del mondo, cambiano le persone, cambiano le situazioni, cambia il mondo intero, come diceva, accennava Greg Braden, si è espanso e ha portato naturalmente questa riflessione all'intero universo, perché se facciamo parte di questo universo, che ormai viene sempre più chiamato multiverso, è perché tutto è interconnesso. C'è una rete di connessione viscerale che accade a livello energetico. 1917, Marx Plank, fisico tedesco, premio Nobel per la ricerca sui quanti. Le sue parole sono state, ragazzi miei, c'è un'energia intelligente che pervade tutto, che attraversa tutto, e alla quale noi dobbiamo abbandonarci. E ci possiamo abbandonare in quella vibrazione, in quella coscienza, se esprimiamo noi stessi. Perché dobbiamo testimoniare il dono che portiamo da casa. Siamo qua per esprimerlo, per condividerlo, per portarlo agli occhi degli altri. Gli altri ci fanno da specchio e da riflesso su questo. E attuiamo che cosa? Un processo di individuazione attraverso il quale noi ci riconosciamo e prendiamo ogni giorno più desiderio, più forza per esprimere tutto quello che siamo. Possiamo riportare il centro dentro di noi, così tutto può tornare ad espandersi. Proiezione. L'ho sentito anche prima. Io l'ho tradotto in una frase molto semplice. Io, non tu. Quante volte utilizziamo la frase, tu non mi porti mai fuori a cena. Tu non mi fai questo, tu non mi fai quello. Sei il responsabile o la responsabile della mia infelicità. Cerca di cambiare a livello esoterico. Dobbiamo riconoscere il significato dei mantra. È stato dimostrato anche a livello scientifico, attraverso la cimatica. Quanto le vibrazioni creano forme. C'è un mantra che è io sono, soham in sanscrito. Che è il mantra, da quello che dicono naturalmente i grandi maestri spirituali, che ha la base di tutto. Se voi iniziate a dire, io desidero andare al ristorante, perché mi fa star bene. Io scelgo questo. Io scelgo quell'altro. Che cosa fate in questa modalità? Richiamate l'energia. La spostate dalla vibrazione di essi sono, perché da loro dipende la mia felicità a io sono. E quando questa vibrazione vi entra, come amore profondo, allora iniziate ad avere anche di riflesso dalle persone attorno a voi, una modalità di risposta tale, che vi inviteranno con più tranquillità. Con più serenità, senza conflitto. Perché voi vi prendete la responsabilità della vostra felicità. E quel mantra, io decido in questo momento di ascoltare questa musica. sentite quanto vi dà potere. Quanto riporta quel potere dentro di voi, quella sensazione profonda che gli altri, che accettino o non accettino, è un loro problema. Questo non vuol dire essere egoisti. Charlie Chaplin diceva, quello che gli altri chiamano egoismo, io chiamo amor proprio. E dobbiamo passare di lì. E dobbiamo ringraziare tutte le persone che attorno a noi, nelle nostre relazioni, soprattutto i genitori, i nostri partner, ci danno l'opportunità di imparare o di risintonizzarci con l'amore che è dentro di noi. Non succede nulla per caso. Nella vita, io lo ripeto spesso, il caso non esiste. Ci sono delle dinamiche che mettono insieme tutte le nostre esperienze in un quadro allargato, dove io, nella mia esperienza, do significato alle esperienze altrui attraverso che cosa? Un progetto cosmico. L'individuo attira sempre ciò con cui ha un legame spirituale, anche inconsapevole. Attiriamo quello che ha un legame con noi, dettato da che cosa? Non dalla semplice esperienza, casuale, ma causale. A suo tempo, e io spesso mi allargo anche in altri orizzonti, con quella persona che stiamo reincontrando, in realtà le nostre anime si erano già incontrate precedentemente. E avevano un qualcosa da condividere nell'esperienza. Tutto ciò che non è armonico, che non risuona con l'amore, in un qualche modo dovrà essere sperimentato in relazioni specifiche tutte attorno a noi. Quindi richiameremo nell'esperienza tutto ciò che è stata la nostra semina. Non scappiamo mai di fronte alle persone che ci danno l'occasione di riconoscere quella disarmonia. Perché quando scappiamo, come vi ho detto prima, scappiamo da noi stessi. E per quanto lontano noi andiamo, quell'ombra rimarrà con noi. Sapete che l'ombra è generata dalla luce? E in questo momento l'ombra che è sotto i miei piedi è dettata dalle luci che sono attorno a me. Non potrebbe esserci l'ombra se non c'è la luce. Quindi io devo naturalmente accogliere ed accettare, riconoscere e sperimentare tanto la mia ombra quanto la mia luce. Il magnetismo dipende dalla frequenza e non dalla conoscenza, principio della fisica. La legge della risonanza afferma che le stesse forze di radiazione attirano particelle dello stesso tipo sulla base dei loro campi elettromagnetici. Perché vi do questa legge? Perché la sincronicità, e ne avete sentito parlare anche prima, si realizza secondo un meccanismo di risonanza e non di causa ed effetto. L'affinità produce una sensazione carica di significato per la persona e l'avvia verso il suo destino, processo di individuazione. Quindi la sincronicità come mezzo e non come fine. Noi siamo energia. La nostra energia si trasmette, irradia attorno a noi, attraverso dei campi elettromagnetici. Richiamiamo tutto ciò che è in simpatia, in sintonia con la nostra vibrazione. Chi abbiamo attratto vicino a noi? Perché ho proprio questa persona davanti a me? Perché c'è un qualcosa dentro di me che deve essere vissuto nell'esperienza attraverso lo specchio di questa persona. Questa persona è perfetta per me per riuscire a esternare, ad osservare, a comprendere in un modo magnifico tutta una serie di eventi che richiamiamo che ci devono portare nell'esperienza. Un'esperienza che co-creiamo. L'abbiamo sentito e ripetuto a più riprese durante tutti i nostri interventi. Se spettegolate e litigate oggi, macchierete, sporcherete il vostro domani. Se opprimete i vostri compagni, riceverete la loro rabbia cupa domani. Se aiutate qualcuno oggi, riceverete la vostra ricompensa domani. Se esprimete aggressione oggi, altri reagiranno per paura domani. Se mentite oggi, qualcuno vi ingannerà domani. Se risucchiate qualcuno nella vostra sfera di influenza oggi, vi scontrerete con la riluttanza domani. Se urlate a qualcuno oggi, dovrete dissipare la confusione domani. Se confidate i vostri problemi oggi, vi sarà chiesto come state domani. Se fate dei cambiamenti oggi, vedrete i risultati domani. Pertanto, sappiate che il paradiso di domani ha origine nelle scelte di oggi, in ogni vostro pensiero, parola e azione. Il futuro entra in noi per trasformarsi in noi prima di essere accaduto. Io vi ringrazio enormemente della vostra attenzione e lascio la parola a Tiziano.